ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova video recensione dedicata a queste cuffie della shang tsi modello m8 in here ad archetto sembra una confezione la doc di questa la doc di ricarica come se stessi per fare la proposta a qualcuno ma proprio la doc di ricarica vi faccio vedere la confezione sono cuffie secondo me ideali per chi fa attività fisica all'aperto soprattutto la corsa sui terreni accidentati che mi hanno convinto per alcune cose ma lasciato con molti ma per altre allora seguitemi in questa video recensione così scopriamo insieme perché allora abbiamo detto stiamo parlando di cuffie in here ad archetto le tiro fuori dalla sua confezione eccole qua modello m8 della shang tsi allora sono cuffie abbiamo detto ideali per lo sport perché perché sostanzialmente ve lo dico per esperienza personale queste cuffie così ad archetto offrono la possibilità una volta indossate di avere una grande stabilità non sono impazzito perché anche in terreni disconnessi salti salite discese non danno quella fastidiosa sensazione di stare per perdere all'improvviso ma rimangono saldamente sul padiglione auricolare allora intanto però senza addentrarci sui pregi e difetti guardiamo prima un po di caratteristiche tecniche di queste cuffie wireless bluetooth modello m8 della shang tsi allora innanzitutto abbiamo detto sono cuffie bluetooth 5.0 compatibili sia con android che con gli os li ho provate con iphone e con un galaxy a 50 devo dire che l'abbinamento è stato pressoché immediato una volta che sono collegate con il dispositivo non mi hanno mai dato problemi di stabilità io li ho utilizzate anche per vedere fino a che distanza riuscivano a rimanere collegate entro diciamo un range d'azione di 10 metri non hanno mai dato nessun tipo di problema per quanto riguarda la loro autonomia io le ho in prova da circa una settimana e sono ancora intorno al 30 40 per cento di carica residua per cui una ottima autonomia me le tolgo sono impermeabili ipx 7 quindi sono ideali anche se voi le voleste utilizzare all'aperto quando piove ma devo dire che io le ho provate anche in palestra io mi sto allenando a casa in questo periodo di pandemia sapete in quelle circostanze in cui per lo sforzo a volte si fanno delle espressioni nostri di grignano e muscoli e alcune tipologie di cuffia tendono a scivolare dall'orecchio in questo caso queste sono rimaste sempre ben salde al loro posto altra caratteristica tecnica stiamo parlando di cuffie realizzate in abs nella parte strutturale e in tpe elastico vedete per quello che è l'archetto quindi anche molto molto comodi sono leggerissime sono 110 grammi e devo dire che quello che mi ha stupito è il rapporto qualità prezzo però prima di arrivare a questo volevo fare una piccola precisazione sulla qualità audio che credo che sia un elemento importantissimo quando si deve scegliere un prodotto di questo genere allora devo ammettere che purtroppo non aderendo completamente all'orecchio quindi una volta che voi le avete indossate non essendo proprio non essendoci quell'effetto tipico sottovuoto che a volte no si ottiene con cuffie di questo genere a volte i rumori di sottofondo soprattutto se sono molti si possono sentire e ho notato in alcuni file audio soprattutto quando li utilizzate per esempio come auricolari per il telefono in chiamata un piccolo ronzio di sottofondo un po fastidioso la qualità dell'audio però è molto buona soprattutto per quelli che sono i medi e gli alti i bassi diciamo non sono il massimo ma il suono molto comunque corposo quindi per quanto riguarda la mia prova pratica devo dire che mi hanno soddisfatto vi dicevo un ottimo rapporto qualità prezzo perché sono cuffie che si aggirano in un range di prezzo al momento sto guardando su amazon sono sotto i 25 euro per cui un rapporto qualità prezzo secondo me molto molto buono considerando la tipologia di auricolari quindi mi hanno soddisfatto sono rimasto un po mareggiato da una caratteristica della doc di ricarica ovvero non è presente l'usb tipo c e questo direi che per un prodotto immesso adesso sul mercato è una mancanza inaccettabile è un passo indietro dal punto di vista tecnologico credo che per questa video recensione sia tutto ma solo per il momento io vi saluto vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale di attivare la campanella così da rimanere aggiornati e andrà bene vi saluta e vi rimando alla prossima ciao a tutti